ciao a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi andiamo a vedere insieme dopo un anno di distanza il mini orto che ho creato con le piantine quelle piccoline della lida non so se ve lo ricordate e vi faccio vedere quello che è rimasto perché ovviamente dopo un anno sono piantine che comunque una volta cresciute bisogna appunto toglierle perché la radice è appunto finita almeno con le mie poi non so voi fatemi sapere nei commenti e vi porto con me in giardino allora ancora dall'anno scorso abbiamo il broccolo guardate che bello che è diventato ok è stupendo e sta sempre crescendo di più ovviamente poi lo prenderò su quando le piantine che potete vedere andranno via poi questa pianta che non mi ricordo assolutamente cosa fosse se vi ricordate o se avete idea di cosa sia fatemi sapere nei commenti e poi ovviamente è rimasta anche la rucola che è veramente enorme e ovviamente appena non ci saranno più questi bellissimi fiorellini ok taglierò e dovrebbe ricrescere in fondo lì c'era il ravanello che ho tolto e ho dato mia mamma perché lei ne va matta e niente questo è quello che è rimasto quindi direi anche tanto voi cosa ne dite probabilmente poi ho piantato altre cose ma vi farò vedere più avanti e niente grazie per aver visto il video fin qui ci siamo sul prossimo mi raccomando iscrivetevi sul mio canale ma te li sempre aggiornati su tutti i video ciao a tutti